Battuto il laterale da Re Baudengo, il soldello va a coprire, serve il capitano Apertura sulla sinistra per Tajani, lascia scivolare per Ibra, 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 Ibra di brutto Torniamo anche il direttore di gara, con i capelli color carota, ecco Ibra, Turletti, Turletti, si lancia, si accentra Turletti, tiro a girare, bamba, grande bamba, vediamo un po' se è bamba o no, easy, undicesimo, spettacolo Grande, easy, ci ha creduto, e quindi all'undicesimo minuto 1-0